Ciao a tutti, io sono Ambleto Petrarca Paladini, sono psicoterapeuta ISTDP. Oggi parliamo di narcisismo e di relazioni tossiche. Quando si parla di relazioni amorose si tende a pensare a una storia romantica che possa durare per sempre. Purtroppo non tutte le relazioni sono positive e appaganti. Esistono infatti delle relazioni, le cosiddette relazioni tossiche, in cui uno dei due partner ha dei tratti narcisistici. Che cos'è il narcisismo? Il narcisismo, come ho già detto in altri video, è una patologia che porta a una visione un po' distorta del proprio io, quindi della propria persona. La persona narcisista cerca costantemente l'approvazione degli altri, tende ad agire in modo egocentrico fondamentalmente. Dopo vedremo qualche caratteristica in più. In amore la persona narcisista spesso cerca di attirare infatti l'attenzione e il sostegno del proprio partner, solo per il proprio piacere e non per una reciproca condivisione. I rapporti con i narcisisti possono essere molto appaganti all'inizio, intensi e ricchi di fascino. Tuttavia le cose possono precipitare quando il partner non riesce più a mantenere il controllo e la situazione comincia a diventare complicata. I narcisisti infatti hanno molto spesso bisogno di una costante conferma di se stessi, il che porta a un continuo bisogno di attenzioni e di essere lodati. Quando sei insieme a un narcisista la situazione può diventare molto stressante e molto pesante. Si possono verificare per esempio continui litigi e lamentele, che finiscono per minare la salute mentale e fisica ovviamente. Questo tipo di relazioni può essere fonte, spesso e volentieri, di grande sofferenza e distruzione per la vita sentimentale, per la stabilità psicologica. Per questo è importante conoscere il narcisismo, riconoscere i segnali che possono indicare se si sta vivendo una relazione con un narcisista. Alcuni di questi segnali sono per esempio l'incapacità della persona che avete accanto di essere empatica, l'eccessivo bisogno di attenzioni, l'ossentazione anche di ricchezze, di potere e un senso continuo di superiorità nei confronti degli altri. In sostanza le relazioni con le persone narcisiste quindi possono essere veramente complicate e dannose. Se si sospetta che si stia vivendo una situazione simile è sempre bene confrontarsi con un professionista. Personalmente ho scritto un libro che potete tranquillamente acquistare in libreria, anche su Amazon, nella tela del narcisista, dove spiego che cos'è il narcisismo e dove ovviamente poi spiego come riconoscerlo e tutte le strategie per poterne uscire dalla storia. Spero che questo video ti sia stato utile e ti sia piaciuto, se è così metti mi piace e iscriviti al mio canale.